Musica Due strepitose organizzatrici, Sabina Fattibene e Meri Parioli per questo premio prestigio, un premio veramente di natura eccellente per la disparità anche degli ospiti nelle varie arti scelti e premiati. Allora cominciamo da Meri alla quale chiedo quanto tempo prima si comincia anche solo a pensarlo un premio del genere? Un premio di questo tipo, di questa grandezza ha almeno un due mesi abbondanti di lavoro teorico e pratico, ci sono tutti. Perché avete scelto di chiamarlo proprio Prestige? Prestige perché dà quel tocco di classe, di spessore, di eleganza anche della serata perché come si può vedere è pieno di persone di un certo livello, di una certa eleganza, cultura. Allora devo dire Sabina che anche voi siete state brave molto nel selezionare i candidati, avete fatto tutto da sole o vi siete avvalse di un comitato d'onore? Beh diciamo abbiamo fatto anche un po' da noi e abbiamo anche chiesto aiuto a persone che ne sanno più di noi, ma siccome il premio Prestige è il premio che si dà per l'eccellenza e quindi l'eccellenza sia se è una persona di carriera che anche un talento che emerge oggi e infatti abbiamo in questa serata un tenore che è un giovane talento, una stilista che è una giovane talento della moda quindi ci sono anche dei personaggi di questo tipo e poi ci sono i grandi, i miti del cinema, del teatro come Buzanca, come Pino Amendola e anche Roncato quindi poi per i libri, quindi la scrittura abbiamo avuto la Lambertucci che comunque con la sua dieta ci aiuta a star bene, sempre più sani e più belli. Sì devo dire infatti sono veramente personaggi eccellenti, adesso parliamo della location che avete scelto. Ah la location che io amo, adoro, ho fatto molte cose qua, il parco di Roma, golf, molto elegante, dovevamo andare da un'altra parte però alla fine abbiamo optato per questo, è stata un'ottima scelta perché cucinano bene, l'ospitalità è ottima, lo spazio c'è e intorno abbiamo una natura pazzesca in mezzo a questo parco stupendo. Infine rivolgo la stessa domanda a tutte e due, mi risponde Mary e poi torno su Sabina Cosa pensate? La vostra definizione di talento? Non è una domanda semplice, provate a pensarci e che cos'è per voi il talento? Un mix di? Un insieme di? Di qualità, di stile, di eleganza, di personalità. Questa definizione ci piace, come ribatte Sabina? Beh, il talento è un dono che hanno alcuni in ogni campo, quindi una persona può essere, diciamo, talentuosa nel cinema perché sa recitare come se fosse di una naturalezza pazzesca, come se è così nella vita, è così sullo schermo, è così quindi come cantare, si vede l'espressione, l'animo che ci mette dentro, quindi questo è il talento saper dare emozioni valide a chi ti ascolta, a chi ti vede. E questo è Prestige, grazie a Mary Marioli e a Sabina Fatti Bene e grazie, naturalmente, a Liberi TV. Ciao! Grazie a tutti